Arezzo, destinazione natalizia sempre più riconosciuta a livello nazionale. Un'ulteriore conferma arriva da un altro weekend da sold out con le vie del centro cittadino in base da turisti e non solo, anche nel giorno di Santo Stefano. Un trend positivo favorito anche dal fatto che molti hanno approfittato delle vacanze natalizie per spostarsi con i flussi di viaggiatori che per Natale si sono avvicinati a quelli del 2019, stando a quanto riportato a livello nazionale da uno studio svg per confcommercio. Tanti anche gli accenti stranieri facilmente riconoscibili percorrendo gli itinerari classici della città del Natale, dal cuore del villaggio tirolese in piazza grande al prato e in fortezza con le altre attrazioni. Una formula vincente che ha saputo attrarre fasce di popolazione eterogene e che ha tutte le carte in regola per puntare al successo anche per Capodanno e per l'Epifania. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!